Sì, è andato la patente! Ma come cazzo ruidi? Il mio mercenario rivoluzionario, eh? Devi aiutarci a deprogrammare un computer in una base militare. I loro dannati radar e missili terra-aria rendono quasi impraticabili certe rotte per il contrabbando. Ci aiuterai? Sì, è vero! Sì, è vero! Ora deprogramma la stazione, così i missili non disturberanno più i nostri aerei. Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Abbiamo un contatto! Mandate rinforzi! Sì, è vero! Allarme intrudo! Allarme intrudo! Usiamo quell'arma pesante! Sì, è vero! Tutti i civili che indossano i clodi delle bande sono da considerare scattili. Viene a la norte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no muoversi, 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 facciamo la finita muoversi, muoversi, trovatelo scrogeando con declarazione mi bestia è arrivato Ah! 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 Pediamolo! Sì, che dobbiamo! Attrofarsi! Muoverci! Attrofarsi! Ho inquadrato! Nessuna pietà! Troppo male! Troppo pietà! Troppo male! Occhio! Eccolo lì! Tranquina! Svegliamolo! Circontiamolo! Circontiamolo! Eccolo! Attacco dal piatto! Muoverci, muoverci! Trovatelo! Svegliamolo! Troppo male! Troppo male! Svegliamolo! No, no, no. Guardatela su! La gasta di sicurezza è stata violata e il suo ultimo ruido è per loco! Vi prego! Contatto alla mia posizione! Eh, dancero su idea di tue sofferenze! La sua! Intrugare paruti! Ora morirai! Maledetto! Ora lo vedo! Ora lo vedo! Io lo vedo quel canale! Occhio! È allo scoperno! Mi ha messo male! Non riesco a mirare! Servono rinforzi! Mandate un supporto aereo! Non riesco a mirare! Servono rinforzi! Mandate un supporto aereo! E qui venite! Vediamo come faranno adesso a comunicare! Siamo sotto attacco! Serve supporto aereo immediato! Siamo sotto attacco! Serve supporto aereo immediato! Siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco! Ci è sfuggito! Dammi un passaggio, grazie! Tenete duro! I rinforzi stanno arrivando! I rinforzi stanno arrivando! E' un lavoraccio, ma qualcuno deve farti. E' un lavoraccio, ma qualcuno deve farti. Il 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 lavoraccio, ma qualcuno deve farti. Ben fatto, Scorpio. Ne manca soltanto una. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. Servono rinforzi, mandate un supporto aereo. Servono rinforzi. Il lavoraccio, il lavoraccio, ma qualcuno deve farti. Il lavoraccio, ma qualcuno deve farti. Si viene faccia per rinforzi. Il lavoraccio, ma qualcuno deve farti. Oh, chi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.